Ok, quindi la macchina ha raggiunto la temperatura impostata di 90 gradi, ok? Adesso la macchina è accesa, ma non sta più scaldando perché l'ha raggiunta. Ora, premendo caffè, la macchina inizia a erogare l'acqua. Prima va in preparazione e poi inizia a erogare l'acqua del gruppo. Sta riscaldando di nuovo il gruppo. E come potete notare sta iniziando a scendere appunto l'acqua. Va dentro le pietre. Sta scendendo l'acqua e si sta riempendo la bacinella. Ora, finito di fare il caffè, fermiamo la macchinetta. Per poter usare subito la lancia a vapore non è così veloce perché nel gruppo innanzitutto è circolata l'acqua. Quindi quando apriremo la lancia a vapore uscirà l'acqua. Uscirà l'acqua calda. Bisogna avere la pazienza di fare uscire questa acqua calda. Inizio a vivere. E ora che l'acqua calda è uscita potrete poi mettere il vostro latte. E come potete vedere esce solo vapore, non esce acqua. Perché l'abbiamo fatta prima uscire. E ora che l'abbiamo fatta prima uscire.